Mercoledì 18 ottobre 2017. Mancano 74 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno della bilancia. La chiesa ricorda San Luca Evangelista. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Luca. Accadde oggi. Il 18 ottobre del 1975 nasce ufficialmente il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, con lo scopo di tutelare, salvaguardare e valorizzare il patrimonio artistico e naturale italiano attraverso il restauro e l'apertura al pubblico dei beni storici, artistici o naturalistici. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri al cantante e musicista americano Chuck Berry, nato a St. Louis il 18 ottobre 1926. La citazione del giorno. La giustizia senza forza è impotente. La forza senza la giustizia è tirannica. Blaise Pascal. Dice il saggio. Se porti un paniere di uova, non danzare. Proverbio del Gabon. La parola preziosa. La parola di oggi è giocoforza. Termine sempre meno utilizzato, ma sempre presente, giocoforza è un avverbio che sta a indicare qualcosa di necessario, di inevitabile. Quando non si hanno altre possibilità, bisogna giocoforza agire in un certo modo.